ciao sono emiliano gandhi dell'agenzia immobiliare maxi talcasi oggi sono in zona boccea in verificato 13 17 nell'appartamento white è un appartamento che sta subendo una completa ristrutturazione quindi dalla parte impiantistica pavimenti porte e infissi qui c'è la cucina che potrebbe diventare uno studio o una seconda camera la camera da letto matrimoniale la particolare di questa di questo appartamento è che è un piano moderna ma degli affacci da primo piano perché l'esposizione è verso di discesa che è più bassa rispetto a quello di tredicesimo il bagno con box doccia e la zona giorno quindi un bel soggiorno comodo eventualmente con gli attacchi per mettere la cucina quindi è un po un appartamento gioia perché potrebbe diventare un soggiorno con angolo cottura una camera in una studio caveretta oppure un soggiorno con la cucina separata estremamente il punto di forza è avere questo terrazzino eccolo qui abbastanza vivibile e come vi dicevo questo è l'affaccio verso via i norboni pazzi per maggiori informazioni non esitate a contattarmi per vendere casa puoi fare tu le foto mettendoci tutto te stesso ma con un agente remax eccoci come va hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi